Pronto? No aspetta, però ci devono dire un attimino per i volumi Ragazzi, per favore, per me vuol dire che vanno bene, basta, cominciamo a giocare Ciao curaci! Ciao curaci! Eh, perché non avevo ancora... Marco Fallo Scusate, ho tirato un creppo, ma mi sto... Cos'è tirato, scusami? Un creppo, un creppo! Un creppo? Ma parla in italiano, ma che è un creppo? Un creppo, un colpo! E' di un colpo! Un colpo pull Secondo me non ci sentono Continua a scriversi fratelli Ma no, 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 perché si illumina il... Non capito? Perché mi ti mi rende la schiena con la manina Dite a Marco che è un coglione, tutti quanti in chat Marco coglione Se poi non parlare in un italiano arcaico che ti sentono Ma dai, ancora ci ho detto creppo, non l'ho detto amico arzigugolato Ma arzigugolato o lo dice a tua sorella? Non ti vuoi mettere questo? Vabbè, prendo per buono che l'audio sia giusto Marco coglione Tutti i volumi siano bilanciati che Airo sia un fico Ah, il guai è un figo È vero? Airo è un figo 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 vaffanculo come si chiama ora dove mi sono infilato ieri 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 cosa ho fatto io si chiamarà cosa non ho capito aero ha detto ieri ieri da sé ma ha detto basta vedere come si chiama come no mega succone ma io l'ho detta la virgola una sentita dice basta vedere come si salta con shift shift non è vero cosa sta vedendo come se non sono lasciarsi uscire sì solo uscire una ventina se facciamo a dire una frase di senso compiuto aero per favore non farlo non ti porta la matriciana bravo ora che si suicida si nasconde come stasera non ce la faccio vomitato no così sono io non me non me sono buono ma mi chiamo carbonara è bello perché marco pensa che dopo avergli detto no no sono io penso brava lamp ma io mi si blocca tutto il male fisico però sono bella con la barba sembri quasi una barbata ma scusate ma se muovo tutti e due succede il delirio che palle di odio per capito padre pippo sarà di nuovo il primo vermo morire quindi per i nuovi per i nuovi c'è di aboli del canale c'è la legge che padre pippo deve essere il primo fermo a morire scusa era cosa troppo golosa che io devo essere la prima a morire ranna ora non ho colpito di conicoli con i ranna a questi termini scurrili e poco corretti chi è che scorreggiano scusa io non ho fatto bene non so per servire amici stessi per dire con la barba sembra quasi giovane ma credo sono un po che cosa oddio di uccide me e calla come 2 rimuo visto adesso che male ora che inizia pure comunque queste parole live io non non c'è povera lampona dai 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 che ti ammali ma voi vedete più avanti rispetto a me ci sta odiando più del solito e ora si ammale big suc va a fanculo a tutti quanti io vedo un po più indietro rispetto a voi ragazzi è normale questo marco perché dato se vince non è giusto come seguito scusa grazie dove che precede perché non sono io vorrà va bene guarda come ballano le non gig no perché povera ranna la vittima di tutti ma come in attaccati due di aero in questo turno sono ultima un verme e mezzo neanche un verme e un quarto andiamo caccia e pepe un copenso e marco non c'è neanche il verme lei rango da cosa faccio adesso solo per te no no non posso farlo in ordine mio dia prima marco e poi dato e poi tutti gli altri ma marco soprattutto in primis retto duro è esploso su ti sono marco che per gli effetti sonori che fai comunque no ai bui qualcosa trocelai non ragazzi sapete che io domani sia su mandare retto duro sposo su bisaloni duro c'è della locale è vero allora sapete che io domani dove andare una festa in una discoteca con cento e passi invitati e ho detto di avere 38 di febbre per non andarci marco risposta guardando la live in questo momento sarebbe molto divertente la cosa chi è stato quel bastardo a ucciderli io non è vero è stata run cattiva non si fa grazie a lui stai zitto ranno ma iroo a di euro padre 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 è riuscito nel suo intento invece rimane un colore dark web bocca al lupo per cosa dove perché deve finire male iniziare così dar che io appena ti rivedo ti do le botte sulla chiappa sinistra così ma che non fosse un propositivo ma tocca a me no no stai zitto scusami non fatti arti al mio per quello di burraco il circolo di pur radio non amatriciano guardo ma scusa non ha preso da non ho preso un po di piacerebbe ma questi giovani dire insensate guarda io non sono mai stato dove cazzo lo facciamo il sesso sono mai stato di squadra che ha in vita mia e non intendo andare ragazzi sono andato io ci sono andato per ben due volte costretto dai professori dal professore a che ti ho proposto un torno di ragazzi da fare da gli adoro il burraco ascoltato io voglio giocare a briscola in live una volta il pacco di culi tu però è la natura senza abbessi meno sull'asso carico non è colosseo non è colosseo già c'è sui problemi per favore marco almeno questo non fa fuoco non è mai da fare il comore e beh soprattutto se va in mezzo all'acqua direi che non può andare a fuoco io una volta ma ero in spiaggia per cui per me non conto no sulla spiaggia non si può è solo carino no io ero in campo scuola e il professore ha detto facciamo una bella sorpresa ai ragazzi portiamoli in discoteca posso evitare di andare in discoteca o no ci devo andare per forza ok marco almeno è venuto no non poteva è bello briscola e uno di pochi giochi che sa giocare perché non serve troppo a matematica io ad undici anni giocavo a poker l'anima ora sono pieno di debite non posso andare avanti no dai 6 mi toccate di striscio erano sono bravissimi asso via tutto meglio di bris comunque sia amici non so se avete se lo vediamo a fatto caso nel blog di milano a certo punto in una clip mentre eravamo a sushi c'è la lampa alla fine di una clip c'era poi fa ma questo qui è un belino e che mi avvicino tutto interessato che ho messo non c'è belotto caso non me la ricorda perché dicevo che non mi ricordo non vuoi vedere qualcosa sul telefono ma questo qui è un belino non erano i quadri della casa non so parlare amici no no quelli avescela con me ragazzi ruba mazzo ma dopo ruba mazzo quanto ci giocavo col minonno ruba mazzo seranzo figlio pure quello è anche bello ci rulla però ci sono la carcella ci rulla cercella 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 ma basta ma sembrano il giorno ma che sta storia c'era un ecco di carte dove c'è un gioco di carte no mi sembra un mouse quelle carte napoletane dovrei fare 11 e non quando non fasi mi ha già raccontato blackjack si si raccogia no e cirulla è praticamente la scopa 15 cercella 1 ma cosa stra vincendo non è vero non sono io quello cercella ma questo 1 di vita che pure napoletano non avete mai giocato praticamente come scopa solo che si può fare anche col 15 esiste il 15 bastardo esiste numero 15 no perché adesso matriciana scusami a marco perché preferisco la carbonara cassa da tutti i problemi molto seri marco affanculo buone entrambe la panna il prosciutto cotto e dius che ti chiami ollo sentiamo lontano dopo por favor dodo ho chiamato bobo quanto danno non adesso mi spazzino ma dove si è finito del dato che ha fatto il camminazzo che ha tutto tempo fa giocavi a arc ok pensavo sul gioco di carta c'era questo dodo marco è il mio ultimo verme erano voi mi vede che non mi vuoi far giocare lasciate parlare jeanfranco c'era questo dodo fermo su un sasso in mezzo al mare è rimasto lì per sempre lo usavo come punto di riferimento per dire dove racconto marco marco io spero tu muoia nel sunno stanotte comunque marco lucia ti ha ti ha accosato ti ha ignorato ha fatto bene fosse il primo sicuro di essere morto ranna sei seconda cosa vuoi adesso neanche non ci aggete per me assoluta morto rado per favore aero aero vai aero aero fallo aero io oggi ti ho detto che ti volevo bene quello dell'albero azzurro si esattamente no più ferita si prenderanno io non ti ho preso niccoli del mondo di carbonara lampione cercello sta vincendo ma io adesso c'è un po di napalm la terra bello ma non si è fatto dove come era un amico potente come era un apportato non ha preso era una posto bersaglia in tre gli cresciamo le sovracciglia ma no perché si presenta e perdono le sovracciglia marco non ce l'hanno comunque per i pubblici ora come cade guarda come cade hanno la cassa pensato immaginati l'apposuto se è un quarto perché scusa è un prelato però diventa velocissimo è il sogno erotico di ma basta su di me è dato accadimento terapeutico massimo se ne sta andando sì ciao sì non me ne d'accordo neanche neanche quanto abito perso ma non ha capito cosa ha detto ti ha pesato da ricarbonare il sogno erotico di luca la parola i peli dice è sì lo stavo dicendo io ma poi mi sono incazzato condotto che mi uccideva ma come vuol dire che sono ultimo la lampione piange perché sono ultima e non è capito un'altra messa su discord io non ho visto niente su discord ma l'ha messo o no che cosa è l'appos per se entri ho paura non lo voglio vedere sono interessato potete amici se volete vederlo andando sul nostro canale telegram marco cerchironi vediamo un po cosa di nappa va abbandono la partita in questo modo che neanche attacco da dovrò dato attacca me che uomo di merda che ti voglio tanto bene ma è bellissimo la posi per salient 3 mi raccomando se volete vederlo sul nostro canale non mi va il mouse in questo gioco di te di tre video di me ma mi rimane solamente un verme era un po il favore no non beccate ma ma è morto si ho detto perché fatto questo per ucciderti dato cosa per ammazzarti un bel siamo due parole a casa per ammazzarti un dado verme ora ci tieni il conto e si guarda questo per senare una bella roba i propri diranno è come il counter morti su darsol sono gioco che alice abbiamo continuato sicuramente cosa che rivolgare contro il counter morti fermo da 78 era ma c'è o 300 ovviamente era una rete a 70 quasi che fu mi sono strappato dato metti di un buco avevo un nodo che si è strappato tutto ai evidenti come me si buncherà dove se gli vede mangiare i capelli non è sporito 5 minuti fa e come fa mai scecello ma è con l'acqua lo lo neghi ma perché non c'è il cursore apprecherà no perché sbagliate era la posta c'è un piano con 92 di vita tutti i fili dell'ampione con il 90 da un vita e no allora perché attacchi comunque non ha detto gli anni che nel cane io l'ho sentito perché l'ottimietta caduta da dove chi ti mette accaduto tanto la partita non è vero un cazzo aero non un'unità ho trovato il caldo useranno spesso sotto il tavolo e certo c'è ancora di che no sulla sedia ma sotto il tavolo sta dormendo no non voglio quello non c'è l'attacco aereo con con la bomba d'acqua anch'io no perché contro di me dall'altra parte perché a cazzo è spento il fuoco bravissimo canza non ci ho pensato possono io quello che ti vuole ha capito beh tu mi odio è andato di fatto ma io mi piace non bello parlando ti guardi stanno dando le puntate nuove su boeing in questo momento ma perché tu guardi poi siamo in live se io non lo sto guardando sempre la tv accesa io però sì perché se non sto al buio mi dà fastidio agli occhi uno usa da ma te non prende le cose tre che sto di prima di me che sono di prima forte aia mi serve un equilibrio da io ho diventato di sport perché attacchi meno la run che palle perché giorno al conteggio cosa ho detto allo è un dato di fatto un dato è andato ragazzi a me si è bloccato posso che bel gioco ragazzi io non più la piuttosto gioco con il mio pisellino a me sta andando però c'è vedo marco muoversi che non sono così fusa basta se non l'ho mai nascosto crede che vi dico dato bella vittoria dai sempre pazzo non l'ha ammazzata direi che l'ha ammazzata e conferma la kill la rai paveri mia via da dove non ti aiuto marco ti voglio tanto bene ma sono quarto scusate come sono mortissimo comunque non ancora ricevuto il mio succhino di cittadini come scusa non mi ricordo che mettetevi pronti che si chiama la marca di succhi quella bravo skipper non mi pare la skipper non può darsi o la due no no non mi ricordo quarto sto io no no ragazzi sono quelli di quelli della porto sul sono buoni ma sono fintissimi c'è nel senso tt tt forse una volta gabbana assurdi sì sì no sempre a 60 per foto tocca colosseo sono vicino a retto duro come non sono felice che tu sia felice di ciò retto duro vuol dire che sta mantenendo forte marco da chiare più bellissimo rimbalzare anche perché il retto duro la vena un po difficile come cosa ma no da mi tende o no sì 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 sceso anche tu dove qua dato tutti che leggiamo qua sotto e mecca su cuore che si sta campionando malamente io volevo prendere colozio però ma perché dove vede con me scusa da lui d'ho pure fatto vivere marco marco era per accapararmi favori della ranna ok ragazzi secondo voi quanto dove fidarmi di dato quello che arriva chieda la chat che era fatto ma non c'è mi manchi torna solo tu mi dispiace amici oggi sono stato da parrucchiere dopo quanti mesi sono passati d'agosto ma guarda dove c'è sorini scanto per novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno no sono un po di meno poi ogni volta che stanno ti scebbe sta in me interno e l'ampione non ti ho mai sentito stanno tir mai non dire cazzate mai ho sbagliato bravo cecino grazie ragazzi fortissimo dar quel team scrivono salute o non lo dice che ragazzi sono il ritardissimo ai non mi piace per il tuo ragazzo salta con un tranzata l'indietro sempre rip ma ragazzi io vedo ranna bravissima run che culo cosa fa questa riferma ok perché pensavo di avermi fatto da anni invece no ma va però almeno pazzo idea di far l'amore con lui vado 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 in sincrono con la live che cazzo meno può commentare con i nostri amici che ti sentiranno comunque in ritardo e in 20 secondi di ritardo a live quindi diventi mamma bravissimo è un'esecuzione di gioia tantissimo perché l'ha fatto basta e fagioli guarda con la mara la papera come ti spia dal buco inquietantissimo se auguri ai figli luca oggi è il povero no 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 d'arco no poverino 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 chi no 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 una matriciana sta perdendo 21 ai così forte bravissimo ai pozzo idea di far l'amore con me con te marcos grazie ranno come grazie che funziona sta cosa spazio e poi le freccette per spazio 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 dove sta fermi brutti stronzi allora scusatemi scusatemi io qui il succo della bravo gusto melone ananas che quando giri cerchito ciao sono il melone ananas un bacio invitante e sotto c'è scritto assaggiami punto aiuto perfetto per dissetarti nelle ore più calde e di sexual e poi leggi gli ingredienti acqua il cocco di multifrutto da concentrato ananas melone e maracuda che cazzo mi significa la baracuda a me fa ridere se mi ha fatto ciao 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 ma poi assaggio tra i vecchi euro forse vi ricorderete di me per i film come è bravissima ranni ultimola bravo che succo particolare si molto particolare che succhio particolare austriaca marco ci alleiamo contro dado come scusa quanto ci vinciamo se denunciamo la rauca pensavo la run anche queste sono moleri pedale questo ma io ero io ero il mio mai spitto bellissimo mi raccomando le clip tra l'altro non ha preso unimamente dai maio da maio no 20 che era da me che fino a essere 87 di danno sul cadavere di dado ragazzi è la default dance questa farà però luca smith ai tuoi smithia di farti il corpo di dado ai rocchi ha chiamato luca io ho visto qualcuno fare atti sessuali contro così dovrebbero fare penso sia luca airoo dell'idea vero insieme cosa succede dopo che mi ha molestato non spiegate come dice dietro non ancora nessuno no io c'è 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 di full vita sto pezzente ma già non ho dato io non ti sto colpendo io non ho detto niente ho messo una parte cionai terra quanto tempo la idea come tantissimo comunque avevo messo una parte del cartone è difficile resistermi di piacere esotico che ragazzo ragazzi non ragazzo ma perché ho preso il jetpack ho sbagliato bravo ho letto missi la ricerca sempre sul petto no ragazzi sono dei problemi marco che quello che fai ma dai come vanno i warmi eh insomma si perde c'è 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 marco che è full vita eh no una volta che succede da dove siamo alleati mi metto colpito mezza volta adesso avrei potuto prendere i dati gay non fisica comunque bel tiro c'è e che cazzo ma io credi più fossi intervermi si ne ha fatti eh ci dobbiamo anche le due volte che c'è colpa mia a sto punto hai lo sei davvero altamurano eh adesso me ne vado no iro non farlo sei mio amico grazie a lui sei mio amico già dato su un gioco tu non sei mio amico dato ti stavo chiamando jeje Marco perché vai a seppellirti vivo scusami cosa faranno cosa fa questo pazzo uomo sbagliare più 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 ma ragazza fa cadere oltre suvone bravissima l'angasploso prima di cateto hai preso tanto per una goccia d'acqua ma mi capire non perché secondo ciò che sto affogando quando sono su una pozzanghera perché cosa ho detto arti ma comunque sono con un laterale costo ritardo cosa c'è qui dentro marco c'è forse un cercello dopo di questa magari chiudiamo la lobby e facciamo un'altra magari c'è noi da dove chi mi accarizzi la testa mi sto toccando il pisano che schifo Dado Dado smettila Dado Dado vai Dado fortissimo fortissimo Dado fortissimo Dado 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 bravo Dado ma perché te ne vai Dado perché siamo amici che adorano non dire sei prima a tradire la gente tu io lo posso credere qualcuno ma va 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 vaffanculo io adesso commenterò le cose che succedono con voi senza vederle però facciamo facciamo una prova in un attimo ahhh 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 che situazione cerchendo continua ad avere tutti i vermi io ve lo dico ranno una volta che c'è un vermi da quello che parte dai puoi leccare il cerchietto per favore leccare il cerchietto dai no non mi fai fuori il verme vai dai ru bravissimo allora io adesso airo e da dove avviso colpirò solo Marco cosa c'entro io? cosa c'entro io? ho detto airo e da dove avviso colpirò solo Marco ma che cosa volevo? ma non vorrei parlare ma che cosa volevo? ma che cosa? è riminacciosa non so ma che cazzo? che è padre pippo rana ricordati che tra un minuto di una settimana e pasqua sì che rann torna ho avuto paura ha detto che mi attaccava o l'ho avuto paura marco da dove hai tutto il mio supporto rann dado davino cesso c'è solo di venerdì ho fatto vincere c'è anche io ti ho fatto vincere adesso grazie a tion manomale che ci siete voi ragazze io non ce la faccio questo succo di frutta mi stupisce c'è un altro riquadro con scritto la monarchia e la guerra si erano concuse da poco quando franz joseph rauch si lanciò nella big food grazie 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 a rinforzare potrei però ammazzarco con aiutti aiutti por favor niente a sua etico pensa se ne fai due non può perché ci guardate colosseo è stortissimo è terribile marco quanto è stretto il culo per non cadere come tonio tonio è nato e noi certo visto hai visto tonio abbiamo tono i cartoni o in live no tonio penso sia c'è quel figone che si chiama per tazzi e tazzi mi pare è comunque un gran figone anche se gli piacciono gli uomini i piselli penso stiano parlando di giorgio in realtà blu correttore la corretta giorgio bella tonio visto tonio capirlo scusami infatti dunque se parlate di vento aureo fermatevi perché c'è dato che lo sta guardando esatto non spero dai por favore se poi volete parlare cose su diamond di sembra troveri di tutto però dato però si è andato in acqua sei morto c'è che stava vomitando dovevi essere morto perché sei ancora vivo marco perché sono una persona molto fondata dove stiamo di scuola insieme un pari e agio su e quindi allora davvero tonio perché attori a trussardi immagino di lui devo vederlo giorgio non mai visto me ne parlano però è niente c'è trovato per un tiro a non pensavo avesse preso uno dei tuoi stavo guardando ciao daici com'è ciao daici beh taiki scusami mi ricorderò guarda io lo chiamo come mi pare scherzando ti sembra una persona che scherza piangere dal giapponese ragazzi però come non era un pion ma è lampione esatto e che ti prega da giapponese lui si chiama come vuole ma bigfoot intendi vento aureo il manga o l'anime dell'anime non è finito ancora 34 mesi davanti mi è attaccati non ci stava attaccando marco e ti attacco il barco non parlo il marco scuro non parlo d'arco o mamma mia traici strano sta vincendo il cerchietto forse perché ci siamo ammazzati fra di noi come meglio credete ti chiameremo 85 fosse che marty fabio sì no dado marco tu mi hai attaccato perché non è vero mi è attaccato marco ragazzo cosa è venuto un mio verme no senza sionale bigfoot se prova a dire mezza parola ti mando marco a marco a casa nudo non è un bello spettacolo fabiante 85 terrami ai fermissimo ai sto decidendo ok che brutta posizione per dire c'è un sorriso contro una roccia no la pecora cattiva prevedo del delirio come si salta si salta ai rupazzo ai rupazzo adesso precisi cosa fa cosa fai aero perché mi sono alleato con questo ritardone bellissima musichetta papà 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 si dà da subito ho capito un'altra cosa aero mi sono caccata fortissimo che perché che ha detto aero ho capito un'altra parola bio il bio tutti biologici e amici il mio computer fa un odore strano se non vuoi mi devo guardano anch'io e controllare il minimo le temperature poi non credo entri ma se entra marco a quello che diceva la tua ex padre pippo ha fatto una cosa incredibile non credo entri ma se entra saltiamo intanto liliana ci segue sempre stronza di merda magari soffochi con il cibo che non mangi so di roba strana arti non c'è un estintore in casa non vedo tranquilla ma io per sicurezza fa una cosa metti il naso nella ventola e ispira tutto vediamo se questa funzionerà i pt tiri tv ragava a girare così sicilio dato io di te mi fido vorrei dire tante cose in questo momento non posso dirlo e allora dai dopo questa direi che marco si merita di vincere mi metterò un maremma puttana ai no per favore ai ai sono amici da tanto tempo che culo ai non ha mai detto di essere bravo a vuole non so dai su ma nessuno di noi l'ha mai detto credo io una volta ero bravo ho lavato lo schermo dopo questo sputato che schifo la famosissima clip marco non funziona marco non funziona cosa scusa marco avvicinati un po cosa andava a funzionare dato l'altro sappiamo che finirà con l'armageddon marco per favore lo puoi ammazzare una domanda seria la bomba santa di questo gioco può essere considerata blasphema e buono lo so falle lui a quando una citazione a qualcosa ma non mi ricordo dato avvinto ranno vado avvinto ranno no quello lì ancora vivo matriciana no 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 a meno più di 70 ah non so come fare scusato che scuola di merda sculato cosa ma è che poteva andarsene dove gli pareva il mulatto dritto per dritto marco io ho calcolato bene che non ci fossero gli spiccolini ma fa un culo degli spiccolini del cazzo di marco non toccarmi i spiccolini niente ragazzi non vincerò mai a questo gioco come in qualsiasi gioca la mia vita fa schifo non mi raccomando mai io sono quarto fermi facciamo tre vermi per uno questo comunque la mia vita la mia vita come le partite a world fa schifo di frutto mettete tre pervi per uno per favore come fai tre clicchi sul tuo nome e fai tre questo facessi tu no non posso lampiona scelta mi tempo scusa dicevo tornando al succo di facebook meloni ananas e frontali sorprendente che indica il melone che cazzo l'ho fatto è un melone sorprendente denunciare che ha fatto questa cosa ha in un anno direi alleanza contro marco ma tutte e tre poverino dire su mirand mi pare più che non è che se sei scarse perdi da subito allora devi prendertela con me ciao matteo vai a fare saluta anche come scusa non si può sentire si no 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 è sbagliato drammaticalmente ovviamente i giapponesi che scrivono yentai non si possono sbagliare loro sicuramente sanno i denounced my ethnicity in favor of something more kawaii in the land of the rising sun where one kiss comes from a i metti il culatello mi metto il culatello dato dato è stato cercello ma è stato cercello cosa e non vedo il cazzo è sto 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 belino ahahahahah so prenderà un taglierino e altri ma perché serve della grammatica negli entai ah è quello che c'è una delle belle storie per rendere tutto più immersivo ahioh una volta mi ha mandato uno con una ragazza che in realtà era una mucca cos'è? si anche una mia amica ce l'ha io dato doveva essere un segreto ahahah perché voi si chiama il furry non è nulla allora mi hai questo che chiama il furry non è nulla no ma era una ragazza con un vestitino da mucca però l'ora in realtà la trattavano come fosse una mucca non ha molto avrei i miei dubbi però guarda come sono riedofilice mentre l' 컬�onza mi uccide non ricordo bene il plot ma non mi piace la chat in questo aiaaa aiaaa Allora Pumabu marola Visto che tanto questa chi la perderò Ehm domani Forse Se sono ancora vivo Probabilmente faccio Devil Mekrai, lo dico chi è qui presente incredibile forse Ayrus dici di si come? Ayrus c'è anche uno tuo in mezzo lì va bene no Ayrus hai un fallo e povero nico 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 ma dai povero mezzo mondo qui ragazzi ragazzi manca un minuto la juve fuori ragazzi manca un minuto la juve fuori esatto no non sono più ultima ma ragazzi c'ho il pisellino in mano ma ayrus non è mai l'ultima in questo gioco solamente la partita scorsa ma stai zitto ma non dire ma stai zitto la juve tanto cambiava poco è dato in che senso è fuori è fuori dalla champions ah c'è la champions ayrus è un pezzo di merda coglione c'è il bianco rosso sopra torino mamma mia mamma mia il bianco rosso c'è l'altamura mandorale in diretto due pippo due pippo e non voglio dire che mi sto segando il live ma mi sto segando il live dico la foto molto strana mi segue su tv time aiuto in realtà il profilo fake di marco il caso io sono io è che nazi quattro e il bianco e io l'altamura ancora se fosse una squadra di bari che ma poi scusate perché bianco rosso il bianco rosso Ah, io stavo pensando al toro, il toro è granata No, non posso leggere quello che ha scritto De Pippo Assoluto perché in Champions il toro fa veramente forte Marco, posso dire la parola con la S e la B in live? Sbarba papà? Sì Qual è la parola con la S e la B? È qualcosa di bianco, Airo Airo la sborra Cosa esce dal tuo cazzo? Vabbè, ora che è come tabù, ho visto che Marco l'ha detto posso dirlo anch'io Dove vi puoi scrivere non ho più sborra nelle palle Mamma mia, la trentesima sega, ho sputato le gonadi Che cosa? Mi ha sputato poi Gioiare Finito mamma mia Mamma mia Airo Ma davanti a dinamiti io Cercello, 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 se mi ammazzi sei un bastardo, non ti parlerò mai No Cercello, ti sto rimuovendo dalla lista dei miei amici su Minecraft Airo, quant'è che faccio una serie su Minecraft? Ora che sei disoccupato la facciamo Ma che voi fatele serie tra di voi e non chiamate me? Airo adesso disoccupato Evviva, hai durato molto Ma sono vivo, ne ho un altro Hai ultra succone E' il più forte Airo, perché fai le franzate Non so cosa ha trovato Ma c'era granata, scusami Che brutta idea Airo E adesso ti avveleni No, non diventare napoletano È bello perché tutti giocano la loro partita Quello siamo noi due lì sotto Giochiamo un'altra partita Comunque l'ho fatto apposta Non volevo colpire Airo, io ti do un bacino sulla lingua Sono già morto Che ammazza Marco Lo piangete per me Ammazza Marco È arrivato Dai Ma dai cosa, te lo meriti Ma stai zitto Ti prego, cadi di sotto Vederti soffrire Ma la mina? Non esiste Ragazzi, scusate la mina No, c'era il fuoco Prima, c'era il fumo Nella finta Eh, maremma Mi spiace Airo Fratero disoccupato Anch'io sono in senso Per quello che se scrivo cacchiate Scusate Ah, scialla Ma stai tanto Guarda Guarda Per com'era la situazione a quel lavoro Sono quasi felice Però Sì, però Per come t'hanno preso per il culo un po' meno Vabbè, quello lì altro Però facciamo il comodo di soldi, no? No Materialista del cazzo Io vivo di aria Stac Vivo di airo Grazie Vi farò solo per vedere Dai Come scusai? Sono già da attizioni a star nulla Che è successo? Che è successo? Poi Allora Come star Che twist? No, ti ho ruttato i starnutiti insieme È stato molto tragico Hai scusato? Ho ruttato i starnutiti insieme È vomitato, quindi Perché no? Ho ruttato i starnutiti insieme Vai, lo va a fare Qui Per i tre mesi mi sono dovuto andare E lui è dovuto andarci lì minaccioso Per farsi pagare quattro settimane Esatto More Nix, grazie More Nix Grazie, more Benvenuzio È un pezzo Sì, sì, sì Ci hai radati Bravissimo Ci stavo stando Non ci sta raidando Non più Non uccidere i miei I sogni Chi è che sta uccidendo il microfono, Marco? Non ne ho Anche perché l'ho sentito anche io il rumore Io lo sono fermo Non è vero Che volo Che ploffo Piripipipipiriri Eh, sì, perché le casse quelle lì esplodono Eh, sì Eh, sì Mi sono in attesa di altri Aero Eh, che sì Dieci Eh, ragazzi, che sonno Ciao More Nix Stai uccendo il microfono Eh, che cazzo Devo fare Chiavatore nell'anno Lampiona Perché fai ciò Ci voglio provare E fu così Per caso Fall Allo invece di Morinixato Ho letto Marco in culo No, non cade Triste Lampiona Hai perso il senno Volevo Allora, adesso ti uscite quella Amici Beh Marco è morto No E adesso Non mi sentite Io vi sento No, per un attimo Adesso vado bene Sì Grazie Prego Dato Ti do fuoco Perché ho grave i problemi Ah, prima di rimarco in culo Non ti do fuoco Chi è che sta magalando Scusate Comunque penso Discord Ci stia abbandonando In questo Cazzo Un discorso Abbandono Aero non ci sente Ragazzi Aero 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 Ah, ok Guarda che si è pure parato Poverino Dato che mirai Il primo era un divertimento Eh sì Darko Wee 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 No, che schifo Il trono di spot No, in realtà Non l'ho mai visto Diezzaro Diezzaro Posso dire una cosa ovvia Ma che mi è il badire Cerchio culo? Cerchio merda? Cerchio fa schifo? Oppure MRC CRC Marco 95L08 H501 Però è CRC MRC CR7 Bastardo Cerchio rimbambito Vedi che mancava Che ragione Lezzaro Tu sei Tanto il giorno Di discorre Faccio Egli Ezzar Ciao E tu non rispondi Me vado Ezzar Ezzar Ciao E tu non mi rispondi Io piango Io piango Perché il trono Di cuscini Vero Aiu Ma scrivi Scusare Non coglione Esiste Ezzar Magari Ho paura Di Disturbare Non lo so Vuoro di masturbare Marco Dato io ti do fuoco Ma poi quanto Che è successo scusa Cosa è successo Cercavo di trovare scuse Lo puoi sempre Mi dire Sempre fastidio Disturbia anche se respiri Dai Che palla è la mia vita Ragazzi E ricorda Marco Per essere rimbambito Devi pure essere Ambito E non puoi essere Rimbambito Senza essere Vito Rima Però ti rispondo Dobbiamo giocare A rocket È vero Ah si L'hai preso L'ho preso L'ho preso Dai allora Ti carriamo un pochino Fino a platino Perché più sono Non ce l'aveva Già rocket È un super E così Lo platino Sì Non lo vuole Su play Appunto Ah ok Questa scena Non lo scopri Che sono Stupido Marco Non direi mai più Una cosa Del genere Siamo Stato Chiaro Allora C'è pizzo Non è duro Lì Proveramole Non dirlo Anche mi gratta Le palle Che la c'è Sta pizzo Non è duro Tanto l'imposta Di Marco Che volo Che cazzo Eh vaffan chiappa Vaffan chiappa Io le cose ovvie Non dirle Anche te Ma l'imposta Tra vincendo No Appunto Non farmi del male Ma se tu Te ne fai da solo Ma perché l'acqua Scusa Ma perché Scusa Non lo so Ah brucia Magari cadono Di sotto Bruci La città E grolla Il gratta Che Il fichetto E ti Sospetta Peti Peti Petta Posa La sera Perdo Carli Lover Ha nominato Bacaio Ho fatto No È stata Approvata La provatissima No Ciao Morinix Ciao Morinix Fatto Lampionato Di nomini I ragazzi La maggioranza Sì 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 Io per favore Va bene Lo faccio Ma non lo uso più Una persona di merda Anche una serie esclusa Da dagli unicorgi No Davvero Quello Sì tu Io ho sempre Traversi Se volete che me ne vado Me ne vado Marco Vattene da Castiglio Fiorentino Non ci siamo andati Marco Vattene subito Vedo Vedo che mi hai ascoltato Marco E vince Ailu Ailu Io spero che Tu È morto anche Ailu Fino Pari Imbattuto Ragazzi Imbattuto La maggioranza Quale La maggioranza Che ti comunque Stare parlava L'altro giorno Se doni Si fa fortemente Nello digitore Di Marco Però Dei donare 50 euro Ma che cazzo Facciamo 75 Perché E' un volare Amici No Non per forza Che ti 1 Donazione C'è la serie 50 euro Di una Zia Si fa Forte No Ragazzi Che ricordiamo Ragazzi Sarà il 26 26 Mi raccomando C'è forse La leg di Ailu Sennò Ailu Puoi anche Andartene A comprare Un gelato Perché non voglio Un'ora Di fortemente 50 euro No Trento Dai Abbassiamo un pochino No E non sarà Un'ora Ma sarà Un'ora e mezza 12 26 Sessi Anche Di più Marco Ti ho dato Permesso Di farle Di più A me che cazzo Ma è in rega Forse Ma è una visita Nel culo Fai Le emorroidi Però ci saranno Degli intervalli Dove ti ha fatto Che ci sta anche Ares da portare Vabbè ci siamo Ci siamo noi Che schifo Marco Perché si Grazie Fa veramente Schifo Pure a me In spiegare La mattina Quando guardo Allo specchio Vai a Pirate Ma è una visita Di word of worship Fatela L'hier A 50 piotte Sono 50 Sono 5.000 euro Artyom E mezza piotta 50 euro Artyom Amici Grazie mille Presso il passato Vi ricordiamo E non Tutti i nostri Social Instagram Telegram E YouTube Per tenere Vi aggiornati Oggi tra l'altro Abbiamo giornato Il nostro canale Di YouTube No domani Lo facciamo E nulla Domani Ci sarà forse Live di Aero Domani Come sempre Dari 22 Di Di Sano Alla E tutti I giorni Come tutti I cazzo Di Giorni Ciao 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 Ciao